Se stai avendo difficoltà così ad usare il controller oppure che il controller non funziona sul gioco Until Dawn come puoi vedere a me il controller funziona perfettamente senza nessun problema perché ogni tanto vado sempre su gestione dispositivi a controllare se il controller funzioni e se ho qualche aggiornamento da fare o dei driver da scaricare per il mio controller. Quindi in questo caso vado un attimo su esci e andiamo direttamente sul nostro sistema operativo quindi in questo caso vai direttamente su tasto destro su start qua vai su gestione dispositivi una volta fatto assicurati che il tuo controller esca qua sopra quindi come puoi vedere periferiche Xbox 360 adesso vado a scollegare la chiavetta perché è un controller wireless vado a riconnettere così questo controller ed eccolo qua. tasto destro sopra aggiunga driver cerchi driver nel computer vai avanti i driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati torniamo indietro cerchi driver nel computer clicchiamo questa sezione qua inseriamo questo e installerà così il driver se il tuo controller esce qua ma non funziona sul gioco vuol dire che devi aggiornare i driver per questo controller e fai chiudi una volta fatto devi riavviare il computer se non dovesse bastare se stai usando un controller della playstation puoi semplicemente scaricare questa applicazione playstation accessories quindi vado su download ed eccolo qua vai a scaricare l'applicazione questo software ti aiuterà ad usare il controller per via bluetooth oppure cavo quindi clicchiamo sopra scarichiamo e installiamo l'applicazione facciamo avanti accettiamo i termini fai avanti e lo installi avvia il programma l'app è stata aggiornata e facciamo ok facciamo completo conferma e continua con edit o controller come ho detto puoi connetterlo per via cavo USB oppure per via bluetooth quindi per quelli che stanno usando un controller della playstation se non dovesse bastare vai direttamente a scrivere qua sopra controller configura dispositivi di gioco USB ed eccolo qua vai su avanzate inserisci così la periferica qua sopra e fai ok vai su proprietà e vedi se il controller funziona e il controller funziona perfettamente chiudiamo qua chiudiamo qua facciamo ok e ora andiamo direttamente su dispositivi configura dispositivi di gioco USB oppure impostazioni dei dispositivi prodotti di altro tipo ed eccoli qua e questo è il mio controller vado qua sopra e faccio rimuovi il dispositivo rimozione del dispositivo ora scollego un attimo la chiavetta riconnetto così la chiavetta attivo il mio controller ed eccolo qua e torna a funzionare Xbox 360 per Windows e il controller funziona perfettamente anche sul gioco quindi prova uno di questi metodi aggiorna sempre i driver su gestione dispositivi e riavvia il sistema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao